Musica Quest'anno abbiamo fatto una scelta che è quella di fare 4 settimane anziché 3 così come avveniva nel passato spostando l'inizio del Grest dalla fine della scuola a una settimana dopo perché in questa settimana abbiamo potuto in un tempo continuato dalle 9 al mattino alle 5 da sera per tutti i giorni da lunedì a venerdì fare una settimana di formazione per gli animatori per me e per coloro che collaborano con me è stato molto importante sicuramente per aiutare i ragazzi a creare gruppo creare anche una situazione al meglio per poter fare un servizio non solo aggregativo e sociale ma anche soprattutto ecclesiale e comunitario per far sì appunto che potessero vivere un'esperienza di chiesa bella e di fraternità bella Abbiamo anche fatto la scelta di inserire alcune situazioni di volontariato nel pomeriggio dove alcuni di loro 4 o 5 a volta si sono impegnati nella carita sparrocchiale nel centro di urno che da qualche anno è presente nella comunità di Flero e l'anno scorso, quest'anno non è riuscita la collaborazione, abbiamo fatto del volontariato anche col Matto Grosso Noi animatori ci siamo ritrovati con il Neodatorio per fare una settimana di preparazione per appunto prepararci meglio per affrontare questa sfida e riuscire un po' a calarci nel ruolo di animatori Questa esperienza l'abbiamo fatta anche per cercare di formare un gruppo animatori che riuscisse a darsi una mano poi nell'esperienza del Grest Attraverso il Grest sono riuscito a svolgere delle attività di volontariato presso il centro di urno con delle persone più anziane Ho giocato con loro un po' a tombola, abbiamo fatto fare degli esercizi di riabilitazione, di movimento e abbiamo parlato con loro rompendo un po' la noia Tramite un progetto con la nuvola nel sacco e No One Out si è scelto di introdurre una figura che potesse essere referente per l'inclusione L'idea è stata quella di rendere il Grest inclusivo sia nei giochi, nelle attività che venivano proposte con quindi un'attenzione a tutti i bambini con disabilità e unitamente alle proposte dei giochi ho fatto anche un percorso di formazione con gli animatori Ogni settimana ci incontravamo con due gruppi e proponevamo dei giochi di ruolo per farsi di empatizzare col vissuto di chi ha una disabilità e unitamente ai giochi di ruolo abbiamo anche pensato proprio dei laboratori da poter proporre a tutto il Grest In questi incontri che abbiamo fatto noi animatori oltre a fare dei giochi come per esempio il Mimo abbiamo anche capito cos'era effettivamente la diversità, la disabilità e abbiamo parlato di diverse situazioni che ci capitano giornalmente al Grest quindi poi abbiamo proposto a Erika di fare un laboratorio in cui facessimo capire ai bambini cosa fosse effettivamente la diversità e quindi Erika ci ha raccontato di questa storia dell'elefante vario pinto, Elmer che poi abbiamo fatto vedere il breve video della Pixar ai bambini e poi semplicemente le abbiamo spiegato Cosa fa un coordinatore di un Grest? è una bella sfida diciamo che è l'unica figura professionale all'interno di questo Grest quindi dà una visione e porta avanti un progetto educativo che riguarda soprattutto gli animatori quindi qua abbiamo 100 animatori e il gruppo animatori è quello che sta a me gestire quindi sta a me coordinare sta a me gestire le relazioni all'interno di questo gruppo capire quanto ogni ragazzo può dare e chiedere poi ogni ragazzo di fare molti bambini comunque che frequentano il Grest e anche molti animatori sono bambini animatori che sono passati dal doposcuola che abbiamo qui come cooperativa la nuvola nel sacco qua in oratorio da ormai più di 10 anni che si chiama We Care questo progetto su cui io lavoro durante l'anno ovviamente ci permette di andare a conoscere ogni anno tra i 60 e i 70 bambini bambini che poi con gli anni diventano anche animatori quindi una conoscenza anche del territorio e una conoscenza delle persone che vivono questo oratorio che vivono il Grest che è sicuramente una ricchezza perché ognuno si rispetta mi capivo il temporale è la classifica finere di ghiaccioli un'attretta questa sera c'è una festa qui sotto il sole l'estate passa insieme a noi quante persone in oratorio incontrerci di te conoscenza conoscenza di te ripostare conoscenza di te conoscenza Grazie a tutti per aver guardato il video.